Il muro ha ceduto, si è ribaltato sulla strada e la collina ha conquistato la carreggiata. Siamo a Chietiscalo, località San Martino, nei pressi del villaggio del Mediterraneo. I residenti del quartiere raccontano una storia d'incuria che si trascina ormai da diversi anni. Signore, lei infatti abita qui nel quartiere San Martino? Abita nel quartiere San Martino, via Solferino. Ma questo crollo qui in mezzo a... Sarà da 9-10 anni, questa cosa qui. 9-10 anni che metà della strada è occupata dai detriti e nessuno fa niente? Nessuno fa niente. Il comune dice che la bonifica del comune è questa qua. Voi del quartiere avete segnalato la questione? Ma come è stato segnalato? Ma poi qui vicino ci abita l'assessore Gian Pietro, vice sindaco, abita a 300 metri, quindi ci passa. I riflettori sulla frana dimenticata è Paolo De Cesare, in lizza per la poltrona di sindaco. A settembre infatti si rinnoverà il consiglio comunale. L'amministrazione di primio, accusa De Cesare, qui non ha fatto nulla. Un esempio emblematico di degrado e di abbandono di questa zona è un muro crollato da 5 anni che, come potete vedere, ha invaso peraltro anche la carreggiata stradale. È abbandonato così, franato, malincuria, ricettacolo anche di detriti, totalmente abbandonato e peraltro anche pericolante perché anche un'altra parte di muro sta per cedere. Io approfitto per chiedere al vice sindaco che è di questa zona di San Martino piuttosto che al presidente del consiglio comunale. Sono entrambi esponenti di maggioranza da forse una ventina d'anni, 25 anni. Vorrei sapere nei vari loro ruoli, attualmente sono presidente del consiglio comunale, vice sindaco, ripeto, sono di questa zona di San Martino. Cosa hanno fatto per questo scandalo, per questo degrado che è palese? Così come mi viene da chiedere al candidato sindaco del centrodestra, Fabrizio Di Stefano, che è stato fino a pochi anni fa, un paio di anni fa, deputato della Repubblica. E quindi, considerando che questo degrado c'è da 5 anni, cosa ha fatto? Quanto si è adoperato per questa zona, io vorrò ripartire da questa zona, così come altri quartieri periferici di Chieti, come Brecciarola, come il Tricalle, come la zona del San Camilo, insomma come tante altre zone, Santa Barbara, tante altre periferie che sono abbandonate. Ripartire dalle periferie quindi, un tema che dovrà essere affrontato da chiunque siederà sulla poltrona di primo cittadino. De Cesare dice di essere in prima fila. Il candidato è disposto anche a ricorrere al portafoglio degli imprenditori della zona. Mi adopererò, sarà una delle mie priorità intervenire con tutte le forze, fin anche arrivando a reperire fondi privati per assolutamente mettere fine a questa situazione.